Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuti in questo nuovo video Siamo giunti alla penultima settimana di PIL 4 e sono quinto in classifica Non lontanissimo dalle primissime posizioni, però devo ancora mettere il mordente finale per tentare di acciuffarle Come sarà andata questa settimana? Scopritelo insieme a me Ma prima vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al mio canale, se non l'avete ancora fatto Partiamo! Dobbiamo rispinnare la ruota dal malus, quindi divieto caramella rara non può uscire, attenzione, spin Ok, dobbiamo buttare la cura di status, va bene, me ne farò una ragione Mentre il bonus non può essere chi il selvaggio ha scelto dentro il pigliamosche, ma sarà... ma sarà... ma sarà... Ah, ok, la caramella rara e possiamo dare sull'altro poemon Non... non male direi, come bonus malus, non male Verde Questo è sempre il nostro inizio di settimana! Ale! Wow, un rash! Bazzi! Porto due statisti a più 6, un acupressure vince lo scontro del vecchio d'autore Sprout o Brock? Ma perché non l'hanno messa all'hub? Tirerei dynamic punch e poi proviamo a fare acupressure Ammesso e non concesso e si riesca a tirare qualcosa Vai! Io la provo Un acupressurina Ma... Oh, ma puoi anche rimanere confuso, eh! Proviamo a dropparlo Droppalo Attenzione Hacker P E miss Miss Dai! Non ci posso credere, però! Ma va Vai! Allora, fake out Questo credo sia l'unico danno che gli faremo, eh! Questa idea qua I cloppo Cos'è sto robo? Vediamo Synx Vabbè, o minus wind Facile Va bene Mudkeep Minus wind Arre! Come arretto? Cosa vuol dire Regge Mudkeep? Eh, porco 2 Eh, Shadow Ball Garchon Vabbè Io andrei di Weatherball Metal Barster Risky Eh, vabbè Ciao Non riuscire a... Non uscire dal laboratorio Penso sia la cosa peggiore Che ti possa capitare Di base Abbiamo iniziato ora, però Somma Magari uscire non sarebbe male Power Jam Letteralmente l'unica mossa Che possiamo... Morti Oh, uno Scrittalo Ma che danno è? Dio niente Perché tanto Critical hit Burna No, non ci credo Ha arrollato alto No, ha arrollato alto Dai, Dio madonna Che palle Tutto per il crit di Shadow Punch Oh, un autoflub in 8 try Pazzesco, oserei dire Andiamo a un flozzel Let's try Che gioco a fa? Ma che gioco a fare? Fa presenza Fa presenza Fa presenza noi Ti dico una cosa It's a led C'è una tabella Che riassume i dati di questa pill Matteo Agostini VGC È nella top 3 Di quelli che Hanno trastato In maniera migliore Hanno massimizzato Le run in maniera migliore E non lo dico io Ma lo dicono i dati Quindi It's a led Zitto Devi stare Muto No, un po' troppo Però è così Quindi Pagliaccio Devo fare gli Twin Needle L'unica mossa che posso fare Swift Poison Almeno Dai Porco 2 Ha pescato il Poison Ora Non ci Eravamo fuori Eravamo fuori Ha pescato il Poison Ha pescato Da una chance a lui Se proprio devo dare una chance Vabbè Posto Moriva anche Steelix Posto Gli diamo la friend E gli diamo la handy Almeno sono 40 punti Allora Evo 40 Ma è un brutto Cross shop Stone edge crit Tailwind Heat wave Crit Burn Due mosse Crit Crit Burn Perfetto Intanto Evo 40 Un brutto Wabbafetto Wabbafetto Senti Rorofkan Mi importa una serie Ho missato un'altra volta Ho rimissato un'altra volta Ho rimissato un'altra volta Ho rimissato un'altra volta No 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 ci Ci rido a mio fratello Ci rido Sì però Ho 18 leggendari Sempre qui Solo qui Porco 2 Dai Dai Porco 2 Porco 2 Nessuno fa più Grout Miracolai Niente Botte Legnate Steche Dai man Porco 2 Ma che C'è il mio duco Ancora una volta Stab super efficace Ma che Allora C'ho Regi Ice Contro Magmar Non faccio Magmar Contro Gagarchon Prendo Regi Ice Purtroppo fa proprio cacare Per fare Octazua Su Magmar Vabbè Focus Blast Ma Regi Ice Sporco 2 Meno male Questo ha messo Qui ci mandava al bar Focus Blast Righetun No però Veramente Veramente Dai Dai Dio Cristo Dai Settimana scorsa Abbiamo fatto 7300 punti Stasettimana 700 750 Stasettimana Madonna Che autoflub Vi sto regalando Che autoflub Vi ho regalato Con lo slip powder E l'iron defense Togetis Torterra Togetis Dai lo prendi Togetis è il terno All'otto Che vuoi sempre E' Porco 2 E' Porco 2 Forti To the peoples. Porco 2. Awakening. Io la userei. Super pozza. Non ci credo. Cosa? Hai beccato Swagger su Metronomo, fratello. Non posso permettermi di self-hittarmi. Porco 2. Sì, ci ha bustato. Ho capito. Mi importa una sega. Cioè, avrai ammazzato tutti probabilmente. Guarda lì. Non c'è. Pocho. Pocho. Poi verrà scammato. Non si sa come perché tanto verrà scammato. Però. Tortellini, cappuccini, con Martini, Luca. Sei per me. Dramatica proprio. Ma guarda. Ma guarda i Pokémon monomossa. che era a fare l'obbligis qua. E il Draco Meteor. Come è morto Toggeis? Counter. Counter. Morto di counter. Solo counter. A voltino. Oh. Non puoi missare. Non missare. Ha missato. Non ci credo. Ha missato l'ultimo. Ha missato l'ultimo. Traumi. Untail. Untail bene. No. Prate. No. I voltai. Motor Drive. E Mud Shot. Che ridicolo. Porco due. E vabbè. Dai. Che porco due di ridicolo. Dai. Che ridicolo. Motor Drive. Al primo Pokémon. Vex special. Oh. Speed Boost però. Abbiamo beccato Speed Boost. Abbiamo inculato Speed Boost. Abbiamo inculato Speed Boost. Beccati quest'autobrock. Fammelo cucinare questo Lucario. Andiamo in che c'ha il primo. Spiro. Cos'è? Plus. Abbiamo preso plus. Sharpen. E ora attacco. Che se quello mi burna è un bordello. Ci rito. Oh. Vamoswein. Mono. Wildmare. Va bene. Lo fanni. Va bene. Per spruzio. Dai. Soul of Bugsy anche. Sai. Ma non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Siamo morti nello stesso modo. Siamo morti nello stesso modo. E oggi. Ma sempre qui. Ma non è possibile. Onyx. Geodude. Geodude Onyx. Porco 2. Vedi. 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 Dio Cristo. Però non si può iniziare con lo steal tutte le volte. Dio mio. Cioè non si può iniziare con lo steal ogni volta. Cristo Dio. Frate. Frate. Ma che significa Farfetch. Che regge Blizzard. Ramorite. Bomba va. Rosaria sbomba. Stare via sbomba. Oddio mio santo. Oh mamma mia. Mamma mia. Intanto siamo out of Brock di nuovo. Però mamma mia. Come fate ad Abagsy? Che fatica c'è? Ah no no no. Non c'è una fatica. Porco 2. Pensavo ci fosse una fatica. Senti ma stanchi. Lì si tirasse Sludge Bomb. Raindance. Sbomba. Sbomba. Kazammo. Sbomba. Sbomba. Molto bene. Charmeleon. Sbomba. Sbomba. Molto bene. Wormadam. Dragon Rage. Warrable. No. Warrable dopo la Reign frate. Come è possibile? Eccolo. Oh madonna pulita. Ve l'ho detto. E tanto arrivava la scammata incredibile. Che ve l'ho detto? Tanto arriva. 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 Guardalo. Guarda lì. Guarda lì. Incredibile. Incredibile. L'attacco di un dio. L'attacco di un dio. Pazzesco. 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 Sempre e solo il secondo pigliamosche. Io non so come sia possibile. Proviamo l'Evo Ranna. Non ho la Candy. Non ho la Candy ragazzi. No. Ci fai den power. Buono. Evo. Intanto 40 punti di Evo Ranna. Se me lo devi dare. Dammelo fisico man. Cioè. Un Mac mi va anche bene. L'importante è che sia fisico. Come stai pannellone? Yon. Ragazzi. Io gli ho tirato una 120 con 17 di attacco. Ma gli ho fatto 12%. Ma un bel RGI. S*****o. La maiala. Cioè. Aspettiamo ad entrare lì che Dodrio è più veloce. Abbiamo la Max Pozza. Pucigena. Tironi per voce. Thunder Fang. Per voce. Corsola. Proviamo la Max Pozza. Sì. Oddio Gesù. Non ci credo. Vieni baby. Faticalo. Boia. Faticalo. Giga Drain. Tomare. Eh. Si suga. Si suga. Si suga. Si suga. Fare 21.000 non sarebbe male di base. Però basta. Sti Pokémon di me. Dio mio. Ce n'era due buoni. L'Axio. Mi sembra una presa per i culo incredibile comunque. Mi sembra una presa per i culo incredibile. Dragon Pulse quando ammazzi i giratini. Incredibile. 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 Ma Cristo Dio. Ma che. Doppio miss. Doppio. Doppio miss di Fire Blast. E lui che ci fa esattamente metà beat. Ma spiga ciò. Fa sto gioco eh. Una porco. Due di paralisi. Maremma ladra. Cignala o. Certo. La lascia ad un HP. Chiaro. 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 14.3 e non si esce al laboratorio eh. Con questo. Latias non si può prendere. Prendi Sorro contro tutti. Gli tiro Rock Breaker eh. In bocca. Ho missato. Non ci credo. Non ci credo. Non ci posso. Non ci posso. Fatto Rock Breaker e non Thunderbolt. Perché almeno con Rock Breaker Stab. Che a una 150. Sono sicuro di one shotare. Nemmeno quello. Vabbè.